Salve web spettatori di NanoTV, venerdì 13 maggio, battute finale per questa campagna elettorale. Oggi qui il comizio di chiusura di Uniti a Sinistra e SEL insieme a Vittorio Mazzone per chiudere questa campagna elettorale. Valeria, allora un appello alle persone di Sinistra a frequentare questo comizio di chiusura. Invitiamo tutti a essere qui a Piazza San Paolo alle 17.30 per il comizio spettacolo, perché vogliamo organizzare non solo un momento di ascolto dei nostri progetti e delle nostre idee per la città di Casoria ma anche un momento che sia il riappio parci della piazza, riappio parci degli spazi ludici che possono essere una canzone, che può essere la proiezione di un video e che può essere un momento di spazio comico con Rosalia Porcaro che ha concesso la sua partecipazione straordinaria. Qui sarà anche Vittorio Mazzone. Sinistra critica, 8% nel passato, una forza enorme qui a Casoria. Contate di riconfermare questi dati? Contiamo di riconfermare il dato e di andare oltre. Siamo sempre stati premiati per la radicalità e per l'integrità del nostro collettivo sul territorio. Questa volta siamo con una coalizione di tutta la Sinistra Unita perché siamo con la lista di Uniti a Sinistra e con la lista di Sinistra Ecologia e Libertà Uniti a Sinistra, cioè di fondazione. Composta da Sinistra Critica e Federazione della Sinistra. Benissimo, l'appuntamento è tra qualche ora qui a Piazzo San Paolo a Casoria. Vi aspettiamo come sempre su napolinord.it Ciao! 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 Ciao!